Ciao, sono Barbara Fiorillo, una fotografa napolitana. Ho studiato giurisprudenza e successivamente ho approfondito gli studi di fotografia, sperimentando differenti generi fotografici, il reportage, lo storytelling e anche la stage photography. Significativo è stato l'incontro e il percorso di studio con Lina Pallotta, nella ricerca di una mia identità fotografica, di matrice intimista. La fotografia per me ha un potere terapeutico, perché mi fa stare bene ed è un mezzo per indagare me stessa, che scopre e svela la mia identità ignota e nascosta, attraverso l'approfondimento di alcune tematiche, come le radici, l'identità e ultimamente la memoria. Nei miei lavori la fotografia è un linguaggio di segni, simboli e archetipi della nostra antichissima cultura mediterranea e, dal punto di vista formale, tende al perseguimento di un personale concetto di bellezza e armonia, attraverso una ricerca del colore e di una luce specifica che caratterizzano le mie atmosfere interiori. Il lavoro di cui vi parlo è immanenza. È un lavoro sul mio isolamento, condiviso con i miei genitori e il cane, durante il primo lockdown a marzo 2020, quando all'improvviso tutti, in Italia e nel mondo, ci siamo trovati isolati nelle nostre case e nasce da una violenza interiore, liberare la mente, attraverso la pratica fotografica, da tutti i pensieri, le preoccupazioni e le paure di quel momento e di documentare questo tempo storico, in cui è in corso una pandemia e una rivoluzione epocale. Immanenza è un lavoro seriale, perché rispecchia la serialità di quei giorni tutti uguali. In questo lavoro il pensiero si è trasformato in un'azione, impacchettare con la plastica le persone, gli oggetti e la finestra, per evocare la mancanza di aria, principale causa di morte dei malati di Covid-19. E quest'azione di ricoprire con la plastica mi rimandava ad un gesto di protezione e isolamento dei soggetti e degli oggetti. Alcuni oggetti rappresentavano metaforicamente le necessità di quel momento, ciò di cui avevamo bisogno, per preservare noi stessi e gli altri dal virus e dal contagio, come le mascherine, i guanti, i disinfettanti. Altri simboleggiavano le privazioni, le abitudini quotidiane che ci sono state sottratte da un giorno all'altro, che erano vietate o non consentite, come gli spostamenti, i viaggi, il lavoro. E altre ancora, come il mappamondo e la clessidra, contestualizzavano il momento contingente. E poi c'è la finestra, che è un elemento essenziale in questo lavoro, perché separa lo spazio interno da quello esterno e lo ricoperta con un telo di plastica, per rafforzare l'idea di incommunicabilità con il mondo esterno e per evocare, attraverso la luce filtrata, lo stato di sospensione, immobilità e di immanenza. Nei miei lavori mi relaziono poco con l'altro. Le persone sono poco presenti e sono quasi sempre donne, perché nella mia fotografia c'è sempre un'indagine e un riferimento al femminile. A chi mi guarda, il mio invito è di trovare una propria identità fotografica in questo mare magnum di omologazione digitale di immagini e di conoscere le regole del linguaggio visivo, perché la fotografia è un potentissimo strumento di comunicazione e quindi bisogna essere consapevoli del messaggio che si vuole veicolare. Grazie. 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 Grazie.